Una vasta operazione antimafia della Polizia di Stato, denominata in codice Icaro, ha assestato un duro colpo a Cosa Nostra. Le squadre mobili di Palermo e Agrigento hanno eseguito complessivamente 13 misure cautelari nei confronti di presunti esponenti delle famiglie mafiose di Agrigento e Portempedocle. Gli investigatori hanno accertato in particolare come non si sia mai spezzato lo storico vincolo tra le cosche palermitane e Agrigentine, ricostruendo la mappa del pizzo imposto alle imprese. In particolare Cosa Nostra avrebbe tentato di condizionare una serie di importanti opere, tra cui il costruendo rigassificatore di Portempedocle e perfino i trasporti con l'isola di Lampedusa. Il racket non avrebbe risparmiato neppure le attività di ristrutturazione e di alloggi popolari. Il provvedimento riguarda sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, tre ai domiciliari e quattro obblighi di dimora. L'inchiesta è stata condotta dai PM della DDA di Palermo Maurizio Scalia, Rita Fulantelli ed Emanuele Ravaglioli. Le accuse ipotizzate a vario titolo nel provvedimento firmato dal GIP Gian Gaspere Camerini sono associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, illegale detenzione di armi, detenzione di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di ricostruire la pianta organica delle cosche mafiose dell'Agrigentino, oltre alla supremazia dei due capi famiglia di Agrigento e Portempedocle, sono emersi i ruoli di spicco di numerosi soggetti. Tra gli arrestati figurano anche il presunto capo della favingia mafiosa di Agrigento, Antonio Iacono, 61 anni, e quello della cosca di Portempedocle, Francesco Messina, di 56, che avrebbero tentato di condizionare la costruzione del ricassificatore di Portempedocle. Ai domiciliari è stato ristretto uno dei presunti patriarchi della mafia agrigentina, Pietro Campo, 63 anni di Santa Margherita Belice, che recentemente avrebbe intrattenuto frequenti contatti con i boss di Corleone. Tra gli stessi indagati sono emersi i ruoli di spicco di Giuseppe Piccillo, 53 anni, residente a Favara, uomo di fiducia di Antonio Iacono, che si sarebbe reso responsabile di diverse azioni intimidatorie per estorcere il pizzo a imprese locali al lavoro nel settore del calcestruzzo. Poi Francesco Capizzi, 50 anni, inteso il milanese, e Francesco Tarantino, 29 anni, inteso Paolo, presunti organici alla famiglia di Portempedocle e che sarebbero stati gli esattori del racket nell'interesse di Francesco Messina e avrebbero tentato di condizionare, pretendendo il pagamento del pizzo, anche una impresa impedoclina che si occupa dei trasporti tra Portempedocle e Lampedusa, è un'altra impresa edile impegnata nell'attività di ristrutturazione di alloggi popolari a Portempedocle. Tra gli arrestati anche Gioacchino Cimino, 61 anni, ritenuto organico alla famiglia di Portempedocle, le intercettazioni della polizia hanno svelato peso e sofferenza tra gli operatori economici della provincia di Agrigento, perché la mafia non avrebbe preteso solo il pizzo, ma anche il controllo delle aziende. Tra gli altri arrestati vi sono Giacomo Lascala, 47 anni, di Santa Margherita Belice e poi Emanuele Riggio, 45 anni, residente a Morreale.